La vittoria di un titolo è l'apice di un percorso sportivo in cui servono capacità, sacrificio e passione e questo weekend nella nostra provincia se ne segneranno addirittura tre. Merito del Comitato Provinciale CSI di Pesaro Urbino, che sabato 4 e domenica 5 maggio vedrà in dirittura d'arrivo tre competizioni che da ottobre coinvolgono circa 400 atleti. Ad aprire i giochi sarà la sfida tra Stazione IP Fenile e Olimpia Cucurano, che si giocheranno la medaglia d'oro del 29esimo campionato calcio amatori, abbinato al 22esimo trofeo Prodi Sport e dodicesimo Memorial Vittorio del Curto. Le formazioni di Capitano Denis Carletti e Mister Giuliano Molari hanno superato sabato scorso in semifinale, entrambe col punteggio di 3-2, rispettivamente Enoteca Biagioli e San Cristoforo, formazioni che sabato anticiperanno la finalissima scendendo in campo per la conquista della Coppa Fano. Le due gare sono in programma sul sintetico di Cucurano, mentre allo Smash Paddle & Beach di Pesaro, calzari e piedi e racchette in mano scenderanno in campo le otto squadre finaliste del primo campionato interprovinciale di beach tennis indoor, organizzato in collaborazione con il Comitato di Ancona. Favorita numero 1 è Bistadium Marotta, che dopo aver concluso in testa la prima e la seconda fase, affronterà agli ottavi Scombold, squadra che invece si è qualificata per il girone gold risalendo dalle retrovie. La vincente di questo incontro affronterà chi uscirà dalla sfida tra i Fanesi del Beach Tabù e gli Iesini del Bat Team. La parte bassa del tabellone prevede invece gli incroci tra Drink Team Pesaro, Bumbanagen, Senigallia e si beve dopo Pesaro i Munto Best Iesi. Le cinque squadre che non sono riuscite a qualificarsi per la finale gold giocheranno alla nuova Beach House di Fano per il trofeo silver, mentre sempre domenica Malbi Stadium di Marotta, finalissima del campionato interprovinciale di Beach Volley, anche questo organizzato insieme alla sede anconetana del Lente. Anche qui a godere dei favori del pronostico sono le formazioni di Marotta, che hanno chiuso ai primi due posti la classifica gold e cercheranno di conquistare il titolo difendendosi dagli attacchi delle due squadre del Bola Club di Moie e dalla Fanese de Wood. Sabato e domenica dunque, per tanti sportivi amatoriali del territorio, da Fano a Pesaro, passando per Lucrezia, Marotta, Iesi, Senigallia e Moie sarà il momento dei verdetti e quindi non ci resta che far loro un in bocca al lupo e che vinca il migliore.